Una settimana di iniziative organizzate in città per ricordare mercoledì 27 gennaio la giornata della memoria contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Incontri, concerti, proiezioni di film e documentari si alterneranno dal 24 al 29 alle celebrazioni ufficiali cui parteciperanno le massime istituzioni cittadine. Il programma messo a punto dal Comune è stato presentato oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo e si intreccia con gli eventi di Memorie, il progetto nato nel 2010 per volontà della Fondazione Valenzi con il patrocinio della Comunità Ebraica di Napoli. Sono sette anni che portiamo avanti questo nostro progetto evento, sono numerosissime, io credo che siano intorno 50-60 gli eventi che sono programmati a Napoli e nell'intera regione Campania. Quest'anno anche per la prima volta saremo presenti con due eventi in Toscana e uno in provincia di Cosenza. Serviranno per tenere viva il ricordo della Shoai attraverso il ricordo di questa tragedia che coinvolse 6 milioni di ebrei di cui 6 mila napoletani, un po' quelle che sono tutte le tragedie del nostro periodo. Tra le iniziative che sono promosse in collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio, la proiezione lunedì 25 del reportage di Raffaele Cofano su Auschwitz e la Shoai Napoletana, nello spazio comunale di Piazza Forcilla. La rappresentazione teatrale su Irena Sendler, martedì 26 al succorpo del complesso monumentale dell'Annunziata e del 27 il concerto della Memoria a cura del Teatro San Carlo nel teatrino di corte di Palazzo Reale. Quest'anno, questa giornata deve assumere un aspetto particolare, credo che debba essere la giornata della memoria ma anche la giornata dell'indignazione. Per l'indignazione di come ci siamo allontanati da quella tragedia, dalla Shoah e di come il mondo sia di nuovo sull'orlo di qualcosa che potrebbe essere perfino per portate e dimensioni forse più catastrofiche di quello che allora è accaduto. In programma venerdì 29 una mostra fotografica presso la Biblioteca Nazionale realizzata dall'Istituto Campano per la Storia della Resistenza e dall'Ampi e la proiezione per tutto il mese di gennaio di incontri e film sulla Shoah con il coinvolgimento delle scuole a cura di Archie Movie presso il Cinema Pierrot.